Conte aveva già praticamente detto ai ragazzi che non sapeva se sarebbe rimasto a letta addirittura ad alcuni ha detto mi raccomando con me o senza di me posso dire anche i bastoni, i birachi, tutta questa gente qui, cioè quelli giovani no? eccetera i quali è stato detto mi raccomando avete fatto una crescita meravigliosa quest'anno io non so se ci sarò ancora qualche giorno fa sul mio canale è uscito un video in cui ho provato a pronosticare come tutti gli anni la classifica finale della Serie A di quest'anno con una provocazione l'Inter secondo me vincerà lo scudetto in questo video proveremo però a capire quanto realmente sia fattibile un qualcosa del genere e lo faremo con un grande ospite benvenuto a Gianluca Rossi, ciao Gianluca ciao a tutti, ciao 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 tu segui l'Inter da tanto tempo? 32 anni, 33, 32, 32, 33 anni quindi diciamo che sei comunque in quel mondo lì un po' di presidenza l'ho visto e sai sicuramente molto più di noi a occhio e croce ti faccio subito una domanda prima però dobbiamo ricordare delle cose importantissime in descrizione lasciamo chiaramente il programma di Youtube tutti i social per rimanere in contatto con noi l'Inter può realmente partire in questa stagione per puntare allo scudetto? ma guarda io devo dire che il canale Youtube Gianluca Rossi TV non facevo mai pronostici di questo tipo perché lavorando in televisione praticamente non dico anche in giornate di 12-13 ore le nostre dirette partono dall'alba e finiscono a tarda notte come sa chi ci segue su Te Lombardia su Top Calcio devo dire che io sono 4 anni che indovino la classifica ma non perché sia un fenomeno perché secondo me fino all'anno scorso compreso quindi l'ultimo che c'è stato in realtà c'era una sola squadra che vince con lo scudetto e su questo siamo d'accordo che era la Juventus diciamo che l'anno scorso, scusa se ti interrompo è stata forse caricata troppo all'inizio l'armata di Conte perché c'era comunque un'inesperienza l'Inter nella stagione precedente era arrivata al quarto posto all'ultima giornata con Spalletti facendo bene perché mancava la Champions da diversi anni parlare di scudetto era esagerato ma no ma francamente sempre allora diciamo che a Milano Milano e Inter abituati ovviamente ai trionfi di Berlusconi e Moratti ogni anno partono per vincere nel parto nell'immaginario collettivo il problema è che poi chi fa l'anelista chi fa cronaca chi magari segue le situazioni sa benissimo che questo non è possibile soprattutto in Italia solo in Italia vige una cosa perché io quando parlo con i miei colleghi all'estero trasecolano cioè in Italia si pensa che chi non gioca siccome la gente è in poltrona più che fare sport attivo al 90% loro pensano che chi non gioca conta di più di chi giochi cioè quindi l'allenatore normalmente cioè loro dicono prendo Mourinho lo metto al Sassuolo e Mourinho vince lo scudetto non c'è la quantità magica allora che l'allenatore dia il 20% in più se è bravo e motivatore è vero ma infatti il 20% di 60 punti cos'erano l'anno scorso l'Inter ha fatto il 68-70 cosa sono alla fine? 14 punti infatti quest'anno l'Inter ha fatto il 82 ma il 20% c'è ma io dall'esterno ti parlo poi da non tifoso nerazzurro ho avuto proprio la sensazione che con Antonio Conte l'Inter abbia avuto un tipo di mentalità diversa si è partita da subito per ambire a qualcosa di più e mi aspettavo anche la crisi che poi c'è stata a metà anno perché era normale lì si parla di mentalità ci sono poi come hai appena detto tu i giocatori che vanno in campo sono loro che poi se uno analizza perché qui si analizza sempre partita per partita ma se uno analizza le 38 partite dell'Inter in campionato scoprirà che se noi prendiamo le stoppiamo tutte queste 38 partite ai primi tempi l'Inter è prima con 6-7 punti di vantaggio poi alla lunga invece no se prendiamo le riprese solo i secondi 45 minuti l'Inter credo che rotoli non vorrei sbagliarmi al settimo-ottavo posto analogamente se noi prendiamo tutte le partite in trasferta solo le 19 partite in trasferta l'Inter è prima prendiamo le partite in casa l'Inter è quarta cosa significa questo dato distribuito su 38 giornate? che tu non hai la continuità della grande squadra certo però è antilogico premetici Sensi Sanchez gli infortuni tu hai fatto la fase centrale con Gagliari e Borca Valero e ti dirò e poi chiudo il punto di vantaggio che ha avuto la Juve è bugiardo in realtà i punti di vantaggio sono secondo me 5-7 perché le ultime due giornate in tre giorni la Juve si è sdraiata davanti adesso non mi ricordo sta l'Udinese la Roma c'è stata l'ultima con la Roma in casa ma aritmeticamente loro erano sulla Champions e se loro sono ancora in corsa quelle due partite non le vincono mai cioè non le perdono mai scusami però giustamente l'Inter l'anno scorso tornando a quello che abbiamo detto prima non doveva partire o meglio avrebbe potuto lo ha fatto partire con il sogno Scudetto ma era più un sogno che un obiettivo naturalmente doveva essere e secondo me è stato un anno di crescita e allora ti chiedo perché tutte queste critiche tutta questa sensazione di fallimento quando tu sei arrivato secondo e in finale di Europa League solo perché non hai alzato un problema sì 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 questo è scontato insomma io sono stato uno dei pochi giornalisti inviati a Colonia una finale a porte chiuse io ho assistito a tutto la rifinitura del Siviglia il giorno prima quella dell'Inter l'Inter era molto più serena molto più tranquilla molto più carica sto parlando della sera prima la rifinitura 24 ore tant'è che si scherzava addirittura con Conte dicendogli oh mi raccomando adesso non andare in conferenza stampa a tirare un'altra mina tant'è che lui poi è andato l'ultima partita ma vediamo e da lì ha tirato la mina ma lui è così ma quello ci può stare il problema che il giorno dopo io non so che cosa sia successo il giorno dopo il Siviglia era pronto a buttarla in risa come ha fatto sai dal tredicesimo minuto sì in modo mi permetto anche un po' esagerare sì sì però e ma noi siamo caduti nel trapolone siamo drammaticamente te lo dico guarda ci sono rimasto male non peraltro perché io proprio per lavoro li ho seguiti tanti di finali e mi è sempre andata bene cioè io quando andavo all'estero avevo tre finali di Coppa UEFA tutte e tre vinte addirittura una volta ho seguito la Juventus ha vinto la Champions League ho fatto Madrid Nante Roma poi ho seguito l'Inter nel 2010 vabbè Marcellona cioè era la prima volta che perdevo una finale all'estero devo dire che non è piacevole no è brutto capisco gli altri adesso non possiamo parlarne no 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 però vabbè però adesso tiriamo in palmo anche la Juventus perché che succede poi si parla di addio di Conte ma se ne parlava già prima della finale di Europa League però Conte rimane perché succede qualcosa magari qualche promessa magari un qualcosa di diverso magari tu sai qualcosa guarda noi dobbiamo essere onesti sì allora io devo essere molto onesto io ogni tanto con qualche giocatore non posso dire che io con qualche parente di giocatore media perché oggi sono avvicinante di Parlo Conte aveva già praticamente detto ai ragazzi che non sapeva se sarebbe rimasto all'interno addirittura ad alcuni ha detto mi raccomando con me o senza di me posso dire anche i bastoni i pirachi tutta questa gente qui cioè con i giovani no eccetera ai quali è stato detto mi raccomando avete fatto una crescita meravigliosa quest'anno io non so se ci sarò ancora quindi ragazzi potremmo anche salutarci qui sapete tanto tutto perché sentite sapete che ci sono delle cose che non mi vanno bene non siamo abbastanza protetti c'è stata una notte di incontri credo telefoni cioè non lo so tra Zang e Conte e improvvisamente Zang gli ha detto senti io non voglio mandare via né te né gli altri siete qua per un progetto di tre anni ne ho parlato con mio padre sono usciti con è l'assurdo il patto di Villa Bellini è la cosa più assurda perché allora se tieni Conte Zanetti Oriali uomini di campo che sono abbastanza vicini devi mandare via l'ausilio della situazione e quelli che lui non sopportano quindi siamo usciti col classico rimpasto di governo all'italiana durerà allora io Conte l'ho visto recentemente posso solo interpretare se non gli fanno il mercato che vuole che non significa Kolarov Vidal e Darmian significa Cante per essere chiari se non gli fanno sta cosa qua secondo me tra un mese lui gli parte l'embolo quindi però tu riduci tutto al calciomercato perché lui parla di protezione ma guarda lui in realtà ogni tanto in realtà è tutta una questione di quest'anno lui non accetta di competere o di provare a vincere quest'anno gli vuole la garanzia di vincere e come dici te ipotizziamo che allora l'Inter prenda gol anche perché c'è la Juve con un nuovo allenatore in trasformazione con delle incognite guarda che se l'anno scorso gli prendono il cerco di dati io non voglio fare il matto ma secondo me un trofeo lo vincere probabilmente la Coppa Italia comunque sia è mancata per poco perché la semifinale di ritorno è stata una partita molto sfortunata a Napoli tu sei lucido ti ricordi Eriksen o Spina il tifoso dell'Inter non è lucido perché lui la partita non la guarda mai cioè lui guarda solo il risultato dice bene è normale Coppa Italia perde via Conte cioè tifoso dell'Inter non è che sia uno particolarmente il mio pensiero è sempre stato per arrivare a un risultato ci vuole un qualcosa di diverso tu prima hai parlato di progetto cosa importante che può mascherare magari soltanto una situazione fragile in casa Inter ma che secondo me è fondamentale perché ti dico questo come hai detto tu la Juventus è in trasformazione ipotizziamo che l'Inter prenda cantè ovviamente si parla un attimino di fantacalcio perché non l'ho ancora preso e quindi non possiamo fare queste analisi ma con o senza cantè sicuramente con Conte se dovesse rimanere l'Inter può partire un gradino più su della Juventus che è in trasformazione e quindi se l'anno scorso erano allo stesso livello per quanto riguarda i due allenatori che erano appena arrivati ma sicuramente la Juve aveva un qualcosa in più per qualità per rosa per esperienza l'Inter quest'anno con l'esperienza che mancava l'anno scorso può averla la Juventus? ma sai la Juventus non possiamo dire che Pirlo è nuovo non è capace non si sa cosa fa la Juventus l'anno scorso è stata drammaticamente penalizzata e le dichiarazioni adesso di Sarri ero con un gruppo inallenabile cioè io credo che la Juventus lo scudetto mi spiace dirlo perché Sarri è un ottimo professionista ma lì non va bene si è capito quando ha sostituito Ronaldo che già è una cosa che di testa non devi fare tu quando è andato a trovare quando ha sostituito Ronaldo al settimo minuto di Juventus di Juventus di Milano cioè fallo all'intervallo cioè Mancini Mourinho queste cose le evitano anche un po' per buonsenso se sai cosa può succedere Ibra è stato sostituito all'Inter io per tre anni è successo un paio di volte nell'intervallo non lo esponi in una partita che vede tutto il mondo al settimo minuto della ripresa non vai a trovarlo il giorno dopo che sei allenatore a baciare l'anello al Papa prostrandoti davanti a lui perché Ronaldo non ti riconosce come avversario Ronaldo e Mourinho se ne dicono di tutti i colori ma si riconoscono come a livello di statura come grandi avversari cioè Sarri viene in una squadra che ha vinto 8 Scudetti pretendendo di cambiargli la testa se io leggo e ho letto ma sapevo perché con le che sa chi e scusami che Sarri stava sulle balle subito a Chiellini appena arrivato Chiellini significa Buffon Bonucci significa la vecchia guardia quindi significa più o meno anche Ronaldo per certi versi perché Ronaldo pensa solo a se stesso tu sei morto lo Scudetto l'ha vinto i calciatori della Juventus questo è giusto dirlo l'ha vinto i calciatori della Juventus dicendo a un certo punto la stagione al sale tu stai lì che ci pensiamo noi ed è finita così ma sono d'accordo con te quest'anno l'Inter non si deve nascondere io quest'anno ammetto e sono io il primo a dire che l'Inter deve sull'abbrivio anche di quello che è successo però io ho paura che Conte perché Conte deve anche far pace con se stesso non può che se non hai tutto subito eccetera e lui è una mina vagante su questo quindi se parte con i risultati ha vinto subito alla Juventus ha vinto subito al Chelsea le difficoltà sono è come dire quando Mourinho aveva vinto la Champions dal Porto la Champions dall'Inter sembrava che Mourinho dovesse vincere altre dieci non è così cioè non è che puoi vincere ogni anno lo ha fatto la Juve perché non c'erano avversari cioè io vi dico una cosa se improvvisamente all'Inter una cosa non la decide Conte Conte va via dall'Inter Conte va via dall'Inter rifanno il patto di Villa Bellini si vede un'oretta dicono scusa ci abbiamo provato qua tutti insieme non si può andare capisco che vi costo che poi non sono dodici saranno dieci e rotti con i bonus cioè mi dovreste venti milioni facciamo così che le date sei e ci salutiamo qua guarda e Conte trova guarda tanto Conte altri dieci milioni li trova dovuto in Inghilterra quindi alla fine ci guadagna anche si fa dare una buona uscita e saluta se tu vedi che a un certo punto le cose non vanno come vuole Conte Conte non chiude neanche l'anno guarda te lo dico spiace dirlo tant'è che Allegri tant'è che volevo tradurizzare i tifosi Allegri non ha accettato niente correva un rischio perché sa benissimo che qui la situazione può esplorare da un momento all'altro è delicata quindi chiudendo abbiamo analizzato abbiamo messo tanta carne al fuoco piazzamento dell'Inter alla fine del campionato come abbiamo aperto chiudiamo guarda non mi nascondo assolutamente per anni ho detto quarta arrivavamo quarti perché avevo detto secondi quando sono arrivati i secondi l'anno scorso quest'anno ti dico che deve arrivare prima se non arriva prima effettivamente vediamo l'obiettivo è quello lì secondo posto l'anno scorso l'obiettivo è l'internata per vincere dopo nove scudetti io credo che c'è solo una società oggi in Italia ma non lo dico per mancare di rispetto agli altri solo un club per quanto ha investito per quello che ha dietro può sostituirsi da Juventus lo ha dimostrato l'Inter lo sta dimostrando io parlo ripeto da non tifoso dell'Inter l'Inter sta facendo quello che non hanno fatto la Roma i Napoli in questi anni non hanno avuto la forza economica mentale di star dietro alla lunga alla Juventus l'Inter c'è stata in parte quest'anno sarebbe il secondo anno eventuale però quello che penso dall'esterno infatti lì non deve essere se cambia un casino ero contro l'esonero comunque sia l'addio di Conte proprio per quel motivo chi mi conosce mi segue da tanti anni sa che io questo mantra per me ogni allenatore deve lavorare tre anni ma tre anni io al di là dei problemi societari che capisci subito volevo arrivare lì ma non lo devi neanche prendere quello infatti ma allora io parto dal presupposto che l'errore più che di Sarri sia naturalmente della Juventus che lo va a scegliere nel momento in cui prendi Sarri devi accettare determinate cose anche di non vincere magari il primo anno perché è un allenatore che deve portare la storia non è un gestore non è allegro è un allenatore alla lunga si vedono i risultati io sono stato contro l'esonero di Sarri poi naturalmente c'è una spiegazione perché i problemi erano alla base ma lì giustamente è un'altra storia detto questo io chiuderei grazie per la tua per aver analizzato approfondito il tema Inter e speriamo appunto che l'anno prossimo ci si riveda con l'Inter primo io non dico speriamo però naturalmente lo detto io vedremo vi invito comunque sia a farci sapere se il format può piacervi a seguire naturalmente Gianluca anche sul suo canale che vi lascio in descrizione vi do appuntamento ai prossimi video alla prossima ciao